a chi non piace rilassarsi nella natura è tranquilla e pacifica e soprattutto gratis beh o quasi è così fresco qui questo sarà sicuramente un grande fine settimana ce l'ho fatta davvero non ci posso credere sono così stanca ehi che succede non sono l'unica qui ciao ci stiamo divertendo un sacco nella porta accanto oh no questo non va non posso permetterlo allora da dove comincio? giusto ho bisogno di un grosso bastone uno davvero grande bene sarà una grande tenda penso che dovrebbe stare qui è un posto bellissimo sta scherzando? c'è così tanto spazio sta venendo bene la plastica mi proteggerà dal sole e dalla pioggia sarà molto accogliente che vibrazioni perfette già che strano design questa ragazza è super strana ecco fatto ora posso riposare un po' l'aria qui è meravigliosa questo posto è bellissimo sembra che qualcuno abbia fame è ora di andare a pescare dov'è la mia canna dorata da spinning? forza canna non deludermi conto su di te cosa c'è per cena stasera? una collana fantastico ma non è commestibile continuiamo a cercare un orologio ma da dove viene? soldi? no non mi servono pronto consegna? prendi il mio ordine sì sono nel bosco qual è il problema? non preoccuparti io ho i soldi wow beh che fortuna forse anche io prenderò qualcosa devo solo lanciare l'amo il più lontano possibile ecco il tuo ordine così veloce che servizio meraviglioso che profumo e sembra così delizioso è incredibile non mangio niente del genere da molto tempo wow cos'è? il mio cibo oh wow oggi è il mio giorno fortunato buono non avrei mai pensato di cenare così bene ups era tuo? non so come sia successo ma restituirà tutto questo è quello di cui parlo una vera delizia dove è preso quella roba? ok anche io posso preparare un drink relax totale chissà se posso usare le pigne per i drink oh cosa sono queste? bottiglie? ecco cosa mi serve penso che questa sia quella giusta le bacche della foresta fanno bene alla salute facciamolo mmm ed ecco l'acqua deve essere solo purificata un pezzo di garza e del carbone facile ecco fatto ecco fatto acqua pura tutto quello che resta da aggiungere sono alcune bacche ed erbe copri e agita la ragazza ricca è fortunata ha tutto ciò di cui ha bisogno e un pezzo di cartone si trasforma in un comodo letto ecco fatto così va molto meglio mmm delizioso pensa di essere la migliore non credo proprio come al solito spero che nessuno abbia visto beh è ora di divertirsi un po' anche nel bosco c'è molto da fare il golf è uno sport che piace alle persone ricche bel colpo e la palla è nella buca d'oro e diva anche se è l'unico modo in cui giochi Emily anche Barbara sa come divertirsi un sacchetto di carta è un'ottima palla e può usare le bottiglie d'acqua come birilli Barbara ama il bowling vedremo chi si diverte di più tutto pronto inizia il gioco grande colpo ho quasi vinto quest'aria fresca è così stancante è ora di riposare sono esausta beh buonanotte Emily sicuramente non morirò congelata sotto una coperta di soldi è così accogliente proprio come a casa è ora di andare a letto è bello dormire all'aria aperta che te ne pare come cuscino penso che sarà molto comodo e un giornale per tenermi al caldo dormi bene Barbara oh no la mia coperta adoro andare in vacanza sulla spiaggia ho bisogno del costume da bagno più bello questa è una sfida per Emily ha così tante scelte è così travolgente penso che starei meglio in rosso ecco fatto è perfetto è ora di conquistare il mondo allora cosa abbiamo qui? perfetto è tutto asciutto non puoi comprarti un costume da bagno improvvisa l'acqua è fantastica è un giorno meraviglioso per una nuotata ciao a tutti è ora di nuotare seguimi sì un costume da bagno di carta che look questo posto è fantastico l'acqua è fantastica oh ancora tu nuota via da un'altra parte il polistirolo galleggia molto bene guarda sono come una piccola barca ma che fai? smettila ehi dico a te wow quante bacche e sembrano deliziose che buon sapore oh no il mio stomaco devo andare subito in bagno ma prima devo scavare una buca finalmente e ora nasconditi non entrate è occupato dovrò pensare a un muro migliore le signore ricche hanno bisogno di un posto costoso dov'è il mio trono? oh è perfetto proprio ciò che mi serve un ventaglio di soldi mi salverà dal caldo e dalle mosche sono così tante sciò però non finirò mai la mia carta ora va meglio cosa c'è di meglio di una doccia mattutina? niente è una spinta di energia per tutta la giornata che sensazione fantastica adoro l'acqua wow ma non è giusto ha tutto ciò di cui ha bisogno non importa penserò a qualcosa vedremo chi ne uscirà vincitore che te ne pare come doccia? usa il cervello non i muscoli è meraviglioso mi sento benissimo tutto quello che devo fare è lavarmi i denti per fortuna ho gli strumenti di cui ho bisogno ah perfetto il mio sorriso è accecante mi sento così bene wow che sorpresa è così bello adoro il suono della pioggia oh no questo è un incubo la mia tenda aiuto cosa devo fare? accidenti sbrigati vieni qui o ti bagnerai grazie mi hai appena salvato la vita non c'è di che ecco a te prendi pure puoi cantare? la pioggia mi fa sempre venire voglia di cantare grande idea conosci questa? sì è una grande canzone ti sono piaciute le avventure di due ragazze sole nella natura? ti piace il campeggio? scrivilo nei commenti e metti un like al video iscriviti al canale e clicca sulla campanella non perdere altri sketch divertenti su Troom Troom Select non perdere altri sketch